bentornato guti e bentornata ora il momento di approcciare a quello che è stato il compleanno di windows 10 la microsoft ha festeggiato questo compleanno con un aggiornamento corposo chiamato anniversary update è un grande aggiornamento dal punto di vista delle dimensioni che è stato messo a disposizione lo scorso agosto è un aggiornamento gratuito rilasciato come detto in corrispondenza del primo anniversario dal rilascio di windows 10 sarà scaricabile ed installabile per tutti i pc che hanno installato windows 10 già la versione numerata con codici 16 0 7 con l'indicazione del sistema operativo 14 393.105 ciò potrà essere verificato mandando in esecuzione il comando win ver che sta per windows version dalla casella esegui o dal prompt dei comandi come vedremo più avanti di norma potresti anche già averlo trovato tra gli aggiornamenti automatici di windows update e se così fosse il tuo sistema operativo potrebbe anche essere già aggiornato quando visioni questa lezione quale sono le novità ce ne sono diverse alcune non le introdurrò in quanto sono dedicate alla console e ad altri progetti ecco cosa andrà ad intaccare principalmente andrà intaccare l'interfaccia del menu start che diventa più compatto comprendendo tutti i pulsanti per l'interazione windows inc che è uno strumento per scrivere sullo schermo del dispositivo come se usassi una penna sul foglio di carta cortana è l'assistente vocale che è stata migliorata microsoft edge che è il browser che avrà migliori prestazioni ed integrazioni con delle estensioni l'antivirus windows defender per un aumento delle protezioni del computer windows hello per l'accesso e l'autenticazione biometrica ai dispositivi il centro operativo avrà più funzioni più pulsanti e gli aggiornamenti con una gestione più personalizzabile la trattazione dei programmi e le funzionalità la rimandiamo al futuro ora concentriamoci su come eseguire l'aggiornamento come poi ottenerlo puoi avviare l'aggiornamento in maniera manuale dal sito della microsoft questo se già non lo hai ottenuto con windows update una volta raggiunta la pagina trovi dei pulsanti aggiorna ora per scaricare un eseguibile chiamato windows 10 upgrade una volta avviato porterà la nuova versione di windows 10 sul pc con un certo tempo variabile puoi attenere invece l'immagine iso tramite il pulsante scarica ora lo strumento scaricherà un piccolo programma media creation tool che ti permetterà di scaricare il file iso e creare il supporto con il quale seguire l'aggiornamento o l'installazione il download del file immagine è di circa 3 gb quindi attenzione se hai una connessione a consumo queste due possibilità sostanzialmente portano allo stesso risultato dopo aver scaricato il file e avviato l'eseguibile partirà una procedura guidata che ti porterà ad aggiornare windows 10 in modo simile a quanto hai visto fare nei passaggi da windows 7 o 8 1 update fino a windows 10 specificamente nella lezione 169 didattica con il video tutorial annesso o per eseguire un'installazione pulita come visto nella lezione 170 e il rispettivo video tutorial potrai semplicemente aggiornare il sistema operativo oppure creare un supporto di installazione dvd o usb che sia ed eseguire successivamente l'aggiornamento come visto nella lezione 168 e il video tutorial durante l'aggiornamento i file e i programmi installati non verranno intaccati a meno che non impieghi il file iso nel qual caso durante l'installazione potrai decidere se mantenere i due file programmi oppure eseguire un'installazione pulita spazzando via tutto ciò che c'era in precedenza creando un supporto ti sarà utile per poter installare windows 10 oppure aggiornarlo su più pc quindi non solo sul tuo avviato l'aggiornamento in una prima fase verranno verificate le caratteristiche del tuo pc per rilevare se ci sono eventuali conflitti di hardware o software successivamente verrà eseguito il download con un tempo variabile ed in seguito avverrà la vera e propria fase di aggiornamento per tutta questa fase potrai ancora utilizzare il pc ma durante la fase di installazione no in quanto lo stesso verrà riavviato più volte al termine della fase del download e la verifica dello stesso avrai una notifica di un tempo variabile per poter riavviare il pc ed eseguire l'aggiornamento oppure cliccando sul pulsante relativo riavviarlo ed aggiornarlo immediatamente potrai anche posticipare l'aggiornamento riavviando in seguito al successivo riavvio ovviamente partirà l'aggiornamento a windows 10 16 0 7 segui a questo punto che è tutto fili liscio come ormai sai fare in virtù della lezione dedicata all'upgrade a windows 10 al termine dell'aggiornamento se tutto è andato per il verso giusto otterrai questa notifica terminato l'aggiornamento in caso di problemi potrai tornare alla versione precedente come spiegato nella lezione 172 e video tutorial quanto appena descritto però è valido solo se hai seguito l'aggiornamento mantenendo i file e programmi perché nel caso avessi aggiornato la versione 16 0 7 con l'installazione pulita naturalmente non ci saranno più i file necessari per poter tornare indietro anche se dovessi cliccare sul pulsante per tornare alla build precedente se tutto funziona correttamente è convivente tra l'altro liberare un bel po' di spazio nel disco rigido eliminando svariati gigabyte di cartelle e file di aggiornamento e della versione precedente di windows 10 aprendo esplorare file sotto la cartella c potresti trovare le seguenti cartelle esd windows punto old e windows 10 upgrade puoi cancellare queste tre cartelle e l'operazione potrebbe avvenire anche in automatico su richiesta del sistema operativo al presentarsi del desktop subito dopo l'aggiornamento a me ad esempio è avvenuta con notifica tramite il centro operativo accanto alla sys trail queste sono le tre cartelle che potresti ottenere subito dopo l'aggiornamento windows punto old ha all'interno la versione precedente del sistema operativo qualora tu volessi in seguito tornare appunto alla versione precedente ma di norma non è necessario ecco perché è opportuno liberare spazio se non riuscissi ad eliminare le cartelle manualmente potrai eseguire tale rimozioni impiegando un qualsiasi lapcd di qualsiasi sistema operativo qui un esempio di come può essere corposa questa cartella anche di più in quanto questa versione nel mio caso è specificamente dedicata al percorso didattico e quindi ho installato pochissimi programmi probabilmente la tua versione sarà più corposa dopo dalle rimozioni pur tentando il ripristino alla versione precedente dalla sezione impostazioni ciò non potrà più avvenire in quanto mancheranno i file necessari e il sistema operativo te lo notificherà bene guter eccoci sul sito della macrosoft due pagine che ti permetteranno di scaricare i programmi necessari ad eseguire l'aggiornamento del sistema operativo dalla versione 15-11 di novembre scorso alla versione 16-07 anniversary update di agosto 2016 in questa pagina puoi ottenere anche una descrizione di come utilizzare lo strumento di aggiornamento di windows 10 oppure lo strumento per la creazione dei supporti di installazione usb dvd o file iso per poter installare e quindi aggiornare windows 10 su diversi pc quindi una rapida lettura ti potrà dare indicazioni migliori per come eseguire e utilizzare questi due strumenti clicchiamo sul pulsante scarica ora lo strumento per avviare il download del file media creation tool oppure nella pagina successiva tramite questo pulsante ottieni ora l'aggiornamento si scaricherà un file eseguibile che è più o meno equivalente a questo al termine del download andiamo a visualizzare i download appena scaricati e sarà a te scegliere l'uno o l'altro programma per avviare il download del file iso oppure l'installazione direttamente dell'aggiornamento senza la creazione del supporto di installazione qualora volessimo scaricare il supporto di installazione puoi utilizzare media creation tool come hai visto passando dalla versione di windows 7 o windows 8.1 possiamo cliccare su questo pulsante per avviare l'aggiornamento del sistema operativo l'aggiornamento avrà una durata variabile in base alla tua banda ed in base alle caratteristiche del tuo processore da questa schermata potrei naturalmente abortire e decidere di aggiornare in seguito oppure cliccando su questo pulsante aggiornare direttamente in aggiunta dal pulsante delle impostazioni puoi andare nella sezione aggiornamenti e sicurezza andando nella sezione windows update e successivamente alla ricerca degli aggiornamenti potresti trovare disponibile questo aggiornamento in automatico e a quel punto l'aggiornamento alla versione 16.07 avverrà come tutti gli aggiornamenti forniti dalla Microsoft in questa sezione chiudiamo questa opzione e avviamo la procedura da questo programma clicchiamo su aggiorna e proseguiamo con l'aggiornamento qui ci notifica che l'aggiornamento è disponibile e la configurazione del pc può supportare questo aggiornamento come puoi vedere il download avviene in automatico il tempo sarà variabile in base alla banda disponibile di internet e alle caratteristiche del tuo pc nel frattempo puoi continuare ad utilizzare il computer fino a che l'installazione non prenderà possesso del pc e tramite vari riavvii si porterà a termine puoi ridurre ad icona l'aggiornamento e continuare ad utilizzare il tuo pc fino al termine del download qualora volessi vedere lo stato del download sarà sufficiente cliccare sull'icona degli aggiornamenti e ti comparirà una finestra con lo stato dell'aggiornamento appunto in qualsiasi momento volessi annullare l'aggiornamento sarà sufficiente cliccare su questo pulsante per interromperlo e come vedi è presente un collegamento che ti consentirà in seguito di riavviare questo aggiornamento quindi se non hai tempo disponibile puoi anche interromperlo per riprenderlo in seguito simuliamo appunto l'annullamento dell'aggiornamento per riprenderlo in seguito clicchiamo su annulla l'aggiornamento verrà messo in pausa potremmo riprenderlo in qualsiasi momento da questo pulsante clicchiamo di nuovo su annulla l'aggiornamento e qualora volessimo riprenderlo sarà sufficiente cliccare su questo pulsante e riavviare la procedura come abbiamo visto in seguito clicchiamo su avanti e riparte la procedura da dove eravamo rimasti quindi come possiamo vedere è perfettamente posizionato in pausa l'aggiornamento ora verrà eseguita una verifica del download del file che è stato scaricato ora la fase di aggiornamento vera e propria e questa registrazione ad un certo punto dovrà essere interrotta in quanto sarà richiesto un riavvio come puoi notare questa fase richiederà un po' di tempo e potrai utilizzare ancora il computer fin tanto che non verrà riavviato altra cosa importante i programmi e i file installati non verranno assolutamente intaccati e nel caso in cui non fossi soddisfatto c'è la possibilità di tornare alla versione precedente a meno di un'azione che potrai eseguire in seguito bene, giunta a questa fase sarà necessario riavviare il sistema c'è un timer che scorre indietro che ti permette di eseguire alcune cose per chiudere tutti i lavori che stai eseguendo per poi riavviare il computer potrai riavviarlo in seguito oppure riavviarlo immediatamente riavviamolo in seguito e qui ci notifica che bisogna riavviare il dispositivo per completare l'aggiornamento ora blocchiamo la registrazione e riavviamo il dispositivo bene, ecco dopo diversi riavvi l'aggiornamento a Windows 10 è terminato e te lo conferma questa finestra cliccando su esci chiudiamo tutta la fase di aggiornamento in basso a destra puoi notare una notifica vediamo cosa dice la notifica aggiornamenti installati clicchiamoci sopra e qui abbiamo un resoconto ci dà la possibilità di disinstallare gli aggiornamenti appena eseguiti oppure le opzioni di ripristino grazie a questo pulsante per iniziare è possibile tornare alla versione precedente come abbiamo visto per il ripristino a Windows 7 o 8.1 una volta che abbiamo aggiornato a Windows 10 questa opzione può anche non essere più presente se ti viene chiesto di eliminare la versione precedente oppure tu stesso aprendo esplora file vai ad eliminare la cartella presente in C e chiamata Windows Hold questa cartella contiene appunto la versione precedente e è conveniente comunque eliminarla in quanto ha una dimensione abbastanza corposa che come puoi vedere è di circa 15 GB ma questo dipende da come hai utilizzato tu il sistema operativo quanti programmi hai installato e soprattutto se hai eseguita la manutenzione ordinaria annulliamo e possiamo anche procedere all'eliminazione manuale di questa cartella confermiamo sì alla richiesta di rimozione naturalmente è necessaria un'autorizzazione come amministratore clicchiamo pure su continua alcuni file potranno non essere rimossi automaticamente o manualmente sarà opportuno eseguirla con dei pulitori dedicati o tramite dei Live CD quindi potrai decidere di rimuovere questa cartella in qualsiasi momento viste le dimensioni ecco dopo che è stata cancellata la cartella per il ritorno se tu volessi provare a tornare alla condizione precedente ossia al sistema operativo precedente cliccando sul tasto per iniziare non trovando più i file necessari il sistema ti dirà naturalmente che non potrà essere eseguito ripristino al sistema operativo precedente alta possibilità per rimuovere questi file è se il sistema operativo dovesse notificarti in basso a destra la possibilità di rimuovere questi file senza altro potrai acconsentire visto che non c'è motivo di tornare al sistema operativo precedente in questo caso a meno di eventi particolari altre cartelle che potrai senz'altro rimuovere sono quella denominata con la sigla ESD e quella denominata con la sigla Windows 10 Upgrade anche l'icona presente sul desktop può essere rimossa senza altro e con il tempo vedremo la variazione che ha portato questo aggiornamento altra cosa che possiamo andare a verificare se la versione installata è effettivamente quella che sapevamo clicchiando con il tasto adesso sul pulsante Start individuiamo Esegui se non ci fosse scritto scrivi la sigla WinVer clicca su OK ed ecco la notifica che la nuova versione è la 1607 del sistema operativo indicato con il numero 14393 una volta eseguito l'aggiornamento andiamo a vedere di impatto cosa va a cambiare in sostanza il menu Start rimane più o meno identico anche se viene compattato tramite il pulsante qui in alto a sinistra puoi aumentare le dimensioni della colonna di sinistra nella quale troverai il pulsante per alimentare e disalimentare il sistema per l'accesso diretto alle impostazioni del sistema operativo ancora troverai il pulsante per aprire Esplora File cosa che già naturalmente trovi nella barra delle applicazioni ed ancora il pulsante per accedere alla modifica del tuo account bloccare oppure disconnettere il singolo utente poi nella colonna centrale e laterale trovi le icone dei programmi aggiunti di recenti oppure quelli utilizzati o la lista delle applicazioni attualmente installate nel tuo sistema operativo puoi interagire con questi pulsanti in relazione al programma che hai installato cliccando con il pulsante destro come già visto nella lezione dedicata sia con questi pulsanti che con le piastrelle presenti nella zona laterale potrai rimuovere da start ridimensionare questa piastrella eseguire altre funzioni generate dal menu rispettivo come disattivare ad esempio il riguadro animato o disinstallare direttamente il programma se installato e muovere le piastrelle da una posizione all'altra come meglio credi oppure creare sezioni dedicate nella barra delle applicazioni compariranno altre cose che man mano vedremo come il pulsante per l'area di lavoro di Windows Inc e il pulsante per le impostazioni nella barra delle applicazioni sostanzialmente è rimasta lo stesso con l'assistente vocale e i desktop che ti permettono di creare diversi desktop in base alle tue necessità per non occludere di troppe icone il desktop di lavoro per una miglior gestione del tuo lavoro nella zona in destra comparirà l'icona di Windows Defender e il centro operativo che poi vedremo in seguito ampliato con i pulsanti e nella prossima lezione ancora informazioni su Windows 10 ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e alla prossima